Siamo davanti a Kiss Tiramisu, marchio italiano veneto utilizzato da un'azienda che non è italiana. Allora in giro per il mondo l'abbiamo visto in Malesia, abbiamo avuto anche un po' da dire. Adesso siamo qui in Thailandia, c'è lo sfruttamento di un marchio e lo stato italiano, l'Europa non fa un cazzo. Praticamente in giro per il mondo noi abbiamo visto qua sia in Malesia che in Thailandia usano i nostri marchi, usano aziende che non hanno nulla a che vedere con l'Italia. Adesso ci sono due persone che stanno consumando il tiramisù, l'ho fatto con una macchina soft e l'auto decorata. Non abbiamo voluto assaggiarlo per il fatto che non è giusto dare soldi per una cosa che non è italiana e viene venduta come italiana. Questo è lo schifo dell'Europa e del nostro governo che non tutela nessun marchio italiano specialmente alimentare in giro per il mondo. E con questo chiudo.